Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa lasciatemi salutare e ringraziare Marco, nuovo abbonato alle mie video lezioni. All'Olimpiadi noi continuiamo a seguire il percorso, l'ottimo percorso dell'Italia, che al quarto turno affronta una delle tre squadre indiane. Sì, perché l'India, che è il paese ospitante, può schierare tre squadre. Questa è quella dei più giovani, ma non fatevi ingannare dall'età, guardate le lofide dei giocatori. Stiamo per guardare insieme una partita, secondo me, spettacolare tra Gukesh, 16 anni, con un elo di 2684, contro il nostro giocatore più forte, Daniele Vocaturo. Non dimenticate di like al video, partiamo. Gukesh di bianco apre la partita con D4, Vocaturo risponde con cavallo in F6. C4 e 6, con cavallo in F3, il bianco non permette al nero di andare a giocare la Nimzo indiana, e allora Vocaturo, giustamente, spinge al centro con D5. Cavallo in C3, siamo nel gambetto di donna, lo affronta spingendo al centro C5, che attacca naturalmente D4. Questa è la difesa semi-tarrasce, dove il nero spesso e volentieri accetta di ritrovarsi dopo i cambi al centro, con il pedone di isolato, per avere però una grande mobilità di pezzi, e quindi cercare di prendere in mano l'iniziativa. Nella linea principale è il bianco che cambia al centro per primo, e lo fa anche Gukesh. C per D5, di nuovo un cambio contro il pedone D, C per D4, la donna cattura, E per D5, guardate, ecco il pedone isolato, alfiere in G5, attacca ed inchiola il cavallo sulla donna, ma la linea principale è alfiere in E7. Ricordatevi che il bianco non può fare il furbo, non può cambiare l'alfiere sul cavallo e vincere il pedone. Vi faccio vedere il perché. Perché dopo alfiere per cavallo, naturalmente non giocata da Gukesh, l'alfiere ricattura e la donna sotto attacco non può vincere il pedone, perché dopo donna che cattura in D5, il nero gli toglie il difensore con scacco. Alfiere che cattura il cavallo in C3 con scacco, naturalmente, vince la donna, vince la partita. E allora ritorniamo a noi, dopo alfiere in E7 arriva E3 per sviluppare l'alfiere campo chiaro, arrocco corto per il nero, torre in D1, ora attenzione perché la donna sarà sempre protetta, e allora il nero deve giocare alfiere in E6, alfiere in D3, continuazione più giocata, invece Gukesh gioca donna in A4. Pensate, tra le varie idee che io ho visto, c'è addirittura la folle alfiere in C4, la folle per modo di dire, invece ottima, perché il pedone risulta inchiodato sulla donna. E allora H6 è l'idea migliore, di solito questo alfiere viene portato indietro in H4, e invece alfiere per cavallo in F6 è la novità, la mossa 11, che rende la partita originale. Naturalmente l'alfiere ricattura, e attenzione perché ci sta per il nero l'idea di dare indietro la coppia per fare il danno alla struttura, e allora il cavallo cattura il pedone, alfiere per cavallo il nero ha vinto un pezzo per un pedone, non si può giocare 4, naturalmente non lo farà neanche Gukesh, come mai non si può attaccare un pezzo inchiodato sulla donna col pedone? perché il pezzo spostandosi indietro riattacca la donna, e quindi è finita la festa, e allora qui bisogna fare qualcosa di importante, donna in B5, dove la donna è protetta, attacca per la seconda volta un pezzo inchiodato sulla donna, in questa posizione, e quindi alfiere in C6 non funziona più, e quindi cosa si può fare? A6, molto semplice, non giocata da avvocaturo, a cosa porta? e spinge il bianco a catturare non di torre ma di donna, quindi donna per alfiere, donna per donna, la torre ricattura, cavallo in C6, il nero è totalmente sviluppato, è vero che rimane con un pedone di svantaggio, ma non dovrebbe rischiare quasi niente, ha molti tempi di vantaggio. Ritorniamo a noi, e invece dopo donna in B5, alfiere per pedone, è l'idea da computer, che si riprende il pedone, ora torre che cattura il pezzo in D5 e attacca la donna, naturalmente anche l'altro alfiere sotto attacco, come se ne esce? Se ne esce sempre di scacco, alfiere in C3 con scacco, re in D1 e il bianco non arroccherà più, donna in E7, alfiere in C4. Ora il nero deve connettere le torri, quindi andare a sviluppare il cavallo, dove si porta? Cavallo in C6 o cavallo in A6? Interessantissima questa cavallo in A6 giocata da vocaturo, perché qui minaccia il doppio di cavallo, re in E2, schioda la torre, perché tra le varie cose, questa torre risultava inchiodata sul re. Ora, il cavallo in C7 non funziona più, perché si può giocare torre in D7, e seppur con materiale pari dopo i cambi, il bianco rimane leggermente preferibile, perché gli rimane più iniziativa, soprattutto questa torre in settima, e allora dopo re in E2, torre in A che va in C8, e ora veramente il cavallo in C7 protetto può dare questo doppio. Allora, donna in B3 attacca l'alfiere, cavallo in B4 fa una minaccia peggiore, perché attacca la torre, e attenzione, dopo donna per alfiere e cavallo per torre, non si può vincere due pezzi per una torre, perché l'alfiere risulterebbe inchiodato dalla donna, sulla donna, scusatemi. Allora, torre in F5 si toglie dalla minaccia del cavallo, alfiere in F6. Torre in B5, e che succede qui? Secondo attacco sul cavallo, e se il cavallo si sposta, la torre cattura in B7 con scacco, guardate, Gukesh, senza sbagliare una virgola, sta trovando l'iniziativa, e allora bisogna giocare A5, come ha fatto Vocaturo, che seppur perde il pedone, devia la torre, e adesso si può giocare cavallo in C6 con tempo. Torre in B5, e si gioca B6, e attenzione, il pedone è intoccabile, e infatti non lo toccherà Gukesh, perché guardate che succede, se il cavallo, sì, scusatemi, se la torre cattura, il cavallo si sposta, impedisce di attaccare la donna, secondo attacco sull'alfiere, quindi vince un pezzo, e allora dopo B6, che cosa fa Gukesh? Lo sposta proprio questo pezzo, alfiere in D5, e qui arriva una mossa sbagliata di Vocaturo. Cosa bisognerebbe fare? Una manovra estremamente complessa, bisognerebbe giocare cavallo in A5, che attacca la donna, e se la donna vuole rimanere sulla colonna B, tipo donna in B1, c'è cavallo in C4, che protegge tutto, dopo cavallo in A5, donna in A4, è l'idea migliore, che controlla due volte la casa C4, allora davvero adesso, cavallo in B7, il bianco vince un secondo pedone, ma donna in D8, è un attacco doppio, allora torre in B5, protegge entrambi i pezzi, arriva cavallo in C5, guardate che interferenza stupenda, quindi la donna si deve spostare, ma deve proteggere l'alfiere, donna in C4, cavallo in B7, attacco di scoperta della torre, donna in B3, cavallo in C5, questa manovra, donna in C4, queste manovre, hanno fatto trovare, queste manovre da computer, hanno fatto veramente trovare, una patta pazzesca, al nero, e invece che succede? Succede che, giustamente lo sposta il cavallo, ma lo porta in A7, e allora, Gukes vince il secondo pedone, qual è l'unica risorsa, l'unico controgioco, rimasto in mano, a vocaturo? è l'attacco sul re, che risulta abbastanza esposto, allora, torre in C3, attacca la donna, donna in B1, continua a controllare, l'entrata della torre, sulla seconda traversa, donna in C5, la torre ce la fa entrare di forza, perché arriva con tempo, torre in D1, protegge l'alfiere, mette in gioco l'ultimo pezzo, torre in C2 con scacco, re in F1, il re ha trovato l'arrocco artificiale, torre in D8, secondo attacco sull'alfiere, cavallo in E1, fa una minaccia peggiore, torre sotto attacco, si porta in C3, e Gukes trova un grandissimo tatticismo, alfiere che cattura in F7 con scacco, e qui bisognerebbe riprendere, e che succede se si riprende? Se si riprende torre, il re accetta il pezzo in F7, guardate che succede, torre per alfiere con scacco, rende sospesa la torre, il re cattura, la torre cattura, e il bianco ha trovato una semplificazione micidiale, che lo lascia con tre pedoni di vantaggio, e allora naturalmente se ne accorge vocaturo, non accetta il pezzo, re in F8, e allora Gukes salva l'alfiere, alfiere in H5, cavallo in C6, torre per torre in D8 con scacco, l'alfiere ricattura, e arriva la fortissima donna in G6, fortissima perché minaccia scacco matto, ma purtroppo le case di matto sono due, e allora come ci si difende? Sempre con questi benedetti scacchi, donna in C4 con scacco, protegge una delle case di matto, quando il re si è spostato, cerca la fuga vocaturo con re in E7, ma torre in B7 con scacco, e la mossa decisiva, il matto è forzato, il vocaturo abbandona, diamolo noi però il matto, perché ci piace sempre vederlo del matto, ora naturalmente se il re torna indietro in F8, donna in E8, e già scacco matto, e tornando indietro, dopo torre in B7 con scacco, purtroppo l'unica interferenza, è alfiere in C7, ma l'alfiere è sospeso, e dopo che la torre cattura di nuovo con scacco, re in D8, è vero che attacca la torre, ma arriva donna in D6, di nuovo scacco matto. Vocaturo ha perso, ma ha perso contro un fenomeno, un ragazzo prodigio, che insieme a Sari Niel, è considerato il futuro dell'India, che aspetta un nuovo eroe, un nuovo campione del mondo, dopo l'immortale Vishen Anam. Spero che la partita vi sia piaciuta, non dimenticate di like al video, non dimenticate soprattutto di iscrivervi al canale, perché noi naturalmente, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!